Di solito si parla di gas, energia elettrica, autostrade, ma come sempre, come un orologio svizzero, puntualissimo, arriva l'aumento anche dell'acqua. Anno nuovo, nuova stangata. Il 2018 si è infatti aperto con la notizia, seppur già annunciata, dell'aumento del 5% nella bolletta dell'acqua. Un incremento previsto negli accordi con nuove acque che sarà seguito nel 2019 da un altro aumento pari al 5% e che era già stato anticipato nel 2017 da quello del 3,8%. Una cosa veramente incongrua, non giustificata da nessun aumento di costi, in presenza di un andamento dell'inflazione che è meno dello 0,6-0,5. Quindi è incredibile come si possa aumentare il 5% le bollette degli aretini quando non c'è bisogno. Negli ultimi anni gli investimenti si potrebbero fare senza ne aumentare le tariffe. Si tratterebbe solo di diminuire, alle mie spalle vedete c'è un quadro, basterebbe smettere di fare dividendi e partirseli fra soci. Noi in cinque anni siamo saliti ogni anno del 5% e siamo arrivati ad avere un utile netto di 5,3 milioni. Quando se ne divide quasi due fra soci e poi siamo invece in presenza di un indebitamento che rimarrà sul gruppone ai cittadini. Che è questo? 46 milioni di euro a fine 2016 che dovrebbe essere destinati tutti gli utili a pagare quello, mentre non viene fatto. Questa è un'operazione che potrà essere curata in un modo solo o con l'apporto di capitale fresco o aumento sistematico, ma non del 5%, ma anche dell'8% delle tariffe per pagare questi debiti. Ma ad accendere le polemiche non è stato unicamente questo nuovo esborso per le famiglie e per le aziende a retine, bensì anche la richiesta da parte di Nuove Acque di prorogare la concessione che scaderebbe nel 2024 di altri tre anni, dunque sino al 2027, richiesta al baglio della conferenza territoriale dei sindaci convocata su iniziativa del primo cittadino di Foiano della Chiana. Serve soltanto a mascherare un problema impellente che è quello della incapacità di rimettere un debito che abbiamo e lo spostiamo nel tempo di altri 3-4 anni.